Doppia spola per gli utenti costretti a macinare chilometri per gli esami fuori sede, non solo viaggi per l'erogazione della prestazione sanitaria ma anche per ritirare il referto. Nell'era digitale accade anche questo, risolevare il caso con l'ennesima missiva indirizzata alla direzione generale ASL è stato il Tribunale per i diritti del malato per il tramite della sua coordinatrice Katia Buglielli. Ancora una volta abbiamo segnalato alla dirigenza ASL 1 la problematica dell'impossibilità da parte degli utenti di ritirare presso il proprio ospedale la refertazione di esami effettuati nei diversi nosocomi appartenenti alla stessa ASL 1. Chiaramente questo comporta difficoltà e disagi per l'utenza costretta a effettuare due viaggi, uno per gli accertamenti, uno per il ritiro del referto. Quando il problema poi afferisce una persona anziana, una persona minore o comunque una persona con difficoltà alla deambulazione è inevitabile che viene gravato il parente che si occupa dell'assistenza. Problema risolvibile senza aggravio di spesa pubblica, senza dispendio di risorse umane ma con impegno e buona volontà rincarapuglielli. Intanto è di queste ore la notizia della scadenza della gara per la rifornitura di toner che potrebbe recare problemi per il rilascio delle ferti cartacei.